Nella gara stregata contro il Gubbio è stato impiegato dall'inizio, non giocava titolare da sette gare. Non ha segnato ma si è procurato il rigore, trasformato da Foggia. Poi la gara è andata come è andata, con due tiri in porta la formazione Umbra si è portata a casa ai tre punti. Antonio Bacio Terracino si augura di essere confermato anche domenica contro la vice capolista Renate. Credo che il vero Bacio Terracino è qui, anche se magari non lo sta dimostrando al 100%, credo che comunque dà il massimo quando viene chiamato in causa, anche se sto trovando poco spazio, però non ho una maglia da titolare. Credo che bisogna essere uniti, nonostante stia trovando poco spazio, e di dare il massimo quando il mister punta su di me. Quindi l'attaccante Biancorosso si sofferma sul Renate, squadra che vanta la migliore difesa del girone. Credo che dobbiamo andare lì con l'umiltà giusta, dare il massimo, loro sono secondi in classifica, non è un caso. Solo così potremo cercare di mettere in difficoltà, essere aggressivi come sempre, cercare di portare a casa un risultato positivo. Andiamo lì con la conseguenza di fare bene e riuscire a dare il meglio tutti insieme.